. David Beckham, ecco come guadagna 1 milione di dollari al mese. Uno stipendio stratosferico, è quanto si regala ogni mese David Beckham. . Secondo il Tesum, lo scorso anno, l'ex calciatore ha guadagnato ben 12.7 milioni di sterline dai diritti della sua immagine, oltre un milione di dollari al mese, 1.3000000, per la precisione, e più di 46 mila dollari al giorno. Ma come è possibile?. . I suoi guadagni, David Beckham, non li deve solo al mondo del calcio. Non si spiegherebbe come altrimenti quattro anni dopo aver appeso le scarpette al chiodo possa guadagnare l'astronomica cifra di uno milione di dollari al mese. . 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 A giudicare da quel volto che la natura gli ha donato. A lui, ma anche ai suoi due fratelli, Romeo e Crutes, e alla biondissima sorellina Harper, piccole e ricchissime generazioni crescono e.